Ha preso il via ufficialmente la nuova vita dello stabilimento Unilever di Pozzigli al centro di un progetto pluriennale di riconversione industriale che lo trasformerà in uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata e l'unico nel sud Italia in grado di recuperare materiale plastico misto da posto consumo, altrimenti destinato a impianti di termovalorizzazione e cementifici. Nella giornata di ieri è stato firmato l'accordo sindacale con tutte le parti sociali coinvolte, a margine dell'incontro organizzato tra Unilever, P2P e rappresentanti sindacali interni ed esterni al sito, accordo che sancisce il passaggio di tutti gli attuali lavoratori dello stabilimento nella nuova società. La firma arriva a seguito del periodo di consultazione avviato dopo la costituzione di una joint venture paritetica tra Unilever e Seriplast, annunciata a marzo, e la presentazione del progetto di riconversione possibile grazie alla collaborazione con governo Regione Molise, di concerto con i sindacati confederali e con il supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico. La nuova società P2P gestirà la graduale riconversione del sito Unilever, in cui attualmente vengono prodotti detergenti per la pulizia della casa e degli indumenti, e nel giro di 24 mesi sarà interamente dedicato alla produzione di plastica riciclata, nel rispetto dunque delle decisioni comunitarie e nazionali volte a ridurre l'inquinamento correlato all'utilizzo di plastica. Un obiettivo che prevede il dimezzamento dell'utilizzo di plastica vergine per il proprio packaging entro il 2025, incrementando del 25% l'utilizzo di plastica riciclata post-consumo. Attenzione particolare, fanno sapere i vertici aziendali, sarà rivolta all'aggiornamento e allo sviluppo di nuove competenze da parte dei collaboratori. Anche nel caso di Pozzilli, il progetto di riconversione accompagnerà i lavoratori con un piano di supporto integrato comprendente diversi aspetti, tra cui la formazione tecnica, la gestione del cambiamento e ogni altro aspetto utile a mettere tutti nelle condizioni di operare al meglio nella nuova realtà produttiva. Con la sottoscrizione degli accordi sindacali siglati si chiude un percorso di due anni che porta ad un risultato straordinario. Insieme, in una logica di sistema, abbiamo non solo protetto l'esistente, ma veicolato investimenti pubblici e privati per lo sviluppo futuro del territorio molisano, ha commentato Gianfranco Chimirri, manager di Unilever e responsabile del progetto.